Tre gli anni di reclusione per Don Giovanni Bonfiglio, riconosciuto colpevole di molestie sessuali e danni di un ragazzino. Questa è la decisione adottata dalla prima sezione penale del Tribunale, presieduta dal magistrato Massimiliano Micali, che ha accolto la richiesta dell'accusa. La prima sezione ha però escluso i concetti di recidive e di continuazione e ha stabilito per Don Bonfiglio l'interdizione dagli uffici di tutela, curate e l'amministrazione di sostegno ulteriori, aventi in particolare contatti con minori. Deciso anche un risarcimento per le parti civili da liquidarsi in sede civile. I fatti risalgono a quasi quattro anni fa. Il 28 ottobre del 2014, il ragazzino, mentre si trovava a bordo del tram, sarebbe stato costretto a subire atti sessuali, consistiti nel toccargli le cosce, nel pappeggiarlo ripetutamente sulle parti intime e nello strofinarsi contro il suo corpo. La vicenda avvenne a bordo del tram, nei pressi degli imbarcaderi privati, all'altezza della Caronte Turis. Il prene in quell'occasione fu anche scaffeggiato dal ragazzino che, infastidito, aveva subito reagito. L'atteggiamento non era passato inosservato ai presenti e ai passanti che si trovavano in quel momento nei pressi del mezzo veloce. Sul posto arrivarono le volanti e portarono prete e ragazzino alla caserma Calipari. Subì o dopo scattò una denuncia nei confronti del prelato per molestie sessuali. E adesso, dopo quattro anni, arriva l'epilogo di questa vicenda. Grazie. Grazie.